C'è una cosa che dovete sapere di me. Sono io che comando. Sono fatta così. Se qualcosa non mi piace, tanti saluti. Ma ora che abbiamo un nido di tre, se mi devo liberare di qualcosa, è lui che mi dà una mano. Nido sa chi comanda in questa casa. È irrazionale. Pazienza. Nido? Ho deciso che può restare. Peraltro, ora non posso non restituirlo, perché ho appena rovinato questa scatola.